Sarà giudicato con rito abbreviato il 17enne accusato dell'omicidio del venditore ambulante Said Nazì, 50 anni, accoltellato la sera del 7 settembre 2022 sulla spiaggia di Margherita di Savoia. L'uomo morì dopo aver ricevuto due fendenti al fianco destro con un coltello da cucina. Al 17enne, che si costituì il giorno seguente, sono contestate le aggravanti di aver agito per motivi abietti o futili e la premeditazione nonché la detenzione di sostanze stupefacenti. All'esito dell'udienza preliminare, il Tribunale dei minorenni di Bari ha accolto la richiesta formulata dal difensore del minore, Barbaro Pietro, e ha rinviato per la discussione all'udienza del 15 novembre prossimo. I familiari del 50enne sono rappresentati invece dall'avvocato Alberto Ciuffrida. La celebrazione del giudizio abbreviato non permetterà di far luce sui motivi abietti o futili che hanno indotto il minore a togliere la vita a Said, dice l'avvocato Ciuffreda in una nota ufficiale. Ciò comunque non vanifica l'interesse dei miei assistiti e in particolare dei tre figli minori di Said affinché sia fatta giustizia.